Compilare la griglia dei crediti in due minuti. Per prima cosa scaricare, se non lo si è ancora fatto, il file contenente l'elenco degli alunni. Verificare in quale cartella è stato salvato il file elenco degli alunni. Clicca su Mostra nella cartella. Clicca sul modulo Griglia per l'attribuzione del credito. Inserire i dati della classe. Il pulsante di importazione appare dopo aver inserito tutti i dati della classe. Selezionare il file elenco degli alunni. Inserire per ogni alunno media, partecipazione ed interesse. Se l'alunno presenta insufficienze, selezionare la casella Insufficienze. Salvare il file, in formato LCD, per osi futuri. Scegliere un nome per il file. Salvare il file in PDF. Salvare il file. Grazie a tutti